Ragazzi ragazzi, ragazzi, allora oggi ho fatto il regalo a mia cugina Ginevra, io ho fatto tipo un portoghiave e due profumi E io sono qua da nanzi Angela e Ginevra sta dormendo Allora, Ginevra sta dormendo Quindi Adesso vi vado a dare il regalo Aspettate Aspettate Ginevra Ginevra, c'è il regalo Non mi fai nello scatto di 100 scatole Dove le vado a trovare 100 scatole? Due Ok, non la vuole? Me la prendo io Ok, allora lo vuoi? Allora tieni Me la potevo prendere io perché pure è bello Ok, iniziamo Prima qua c'è scritto Ingo shop E poi ti ho trovato scritto Ingo shop Cioè Davanti e dietro c'è sempre le stesse cose Non è che cambia English shop Ingo shop Perché c'è English shop e chapeau Sempre uguali sono le case Eh, raga Le cose non cambiano mai Il risultato Resta Sempre uguale Se poi una per caso vuole fa Non lo so Vabbè Cos'è sto inventando nemmeno io lo so Comunque Andiamo a cercare Forza La scatola Le scatole Lei proprio, raga Ce l'ha con due scatole Io Le scatole Dove li vado a trovare? La scatola La scatola La scatola La scatola Ma stiamo scherzando Vabbè Ancora io ho il profumo del Senti qua Ma è quello tuo Eh Perché l'ho provato Perché in senso Questi qui L'ho indovinato Vai Ancora Ancora Anche se è già aperto Ma non ci fate cosa Ho comprato Un'altra cosa La testa Già fuori Di Ginevra Ho comprato la testa E il cervello nuovo Perché poi Non funzionava No scherzo Io sono pazza Mi ho fatto così Perché gli ho detto Perché c'era Bello Ma c'era Molta macchina Questo è veramente vero Io proprio Non è vero Io proprio Le ammetto Perché le cose Lei era proprio pazza Lei dice a mamma Perché lei Non è pazza Ma è una cosa Che mi contro te o no? Mi contro te Che ti dà Mi contro te Le cose di profumi Le cose di portagliavi Mi contro te 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 Mi devo trovare Nel tabacchino Nel cese Io ho detto Acqua sapone In grosso Ma qual è Qual è Mi contro te Non stiamo scherzando Mi contro te Mi cugino Mi contro te Mi contro te Mi contro te Tutti Mi contro te Apriamo questo regalo Te la fa tutte cose Non scherzo Comunque Ci sono presentati Io sono Ginevra E vabbè Melissa Io sono Melissa E io sono Ginevra E io sono Melissi Allora Questo video Molto 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 Interessante E quindi Io non ho fatto Gli anni Ma io ho fatto Questo regalo Perché Mi Mi divo Perché No Mi valgono 820 euro E mia Mia nonna Pina 50 euro E quindi 70 euro Ma non le ho spesi Tutti E niente Mi hanno fatto 30 euro 40 euro Non mi ricordo Ma Io mi sono Pesso Questi Brazzoletti Questi Questi qua Con la luna La luna E le stelle E poi mi sono Pesso la maschera Per il viso Una cosa Per il mio fratello Per il mio fratello Per la sorella Che fa il compleanno La maschera Il viso Un po' C'è comprata Eccelsi Regale Il naturale Le salviettine Come un'altra cosa Però non mi ricordo Bella Andiamo avanti Di dove si apre Di dove si apre Tac Di qua rega Ma qua proprio Ci deve essere Un piatto Per l'aprillo Io ammetto Perché sono L'unico Che si apre Quando la bocca Siamo Siamo Allora Aspetta Vedo un po' Di chi E qua che cosa c'è Vedo qua Allora Venimente Vi faccio vedere Che ci sono Di due Due Allora Ecco qua Queste cose Così Come di qua Vabbè Apri Veloce Veloce Apri 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 No No Così L'asso Dei fossimi Cioè Come se Arrivano Fossimi Vabbè Ma Vabbè Avanti Io sono Venetina Io sono Io sono Venetina Vabbè Dai Io Io sono Venetina Io Non Non E poi Ragazzi Questa cosa Che bella Morbida E poi La sera Io me lo Mettessi A letto Che Siamo Mentre Quando Un Mardi Vabbè Questo Poi No Ciao Di Sare In Vabbè Mi 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 Guardate Che cosa C'è Un profumo Di Cusho Allora Bonbons Malizia Milkers Buonissimo Regal Ma Questa Io l'adoro Aspetta Mi 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 Parent Mi Mi casa è tu no, perché sono io tu sono e non ho forno ma non è bene qua e forse trovo i piedi ho paura di farlo ma non è bebe, vero? se non bebe lo bebe mi sto mi facendo non so perché va ma nella scatola cioè la scatola la metto tutti i giorni raga io ne ho un altro a casa però ne ho uno e questo è il terzo il quinto aiuti sto carino il quinto è quello là guardate guardate che bene guardate che bene aspetta un minuto ma c'è un rumore tipo qua c'è questa cosa che è e poi c'è quella cosa perché prendersi e questa cosa si può prendere pure ha lo zaino regà domani me la devo comprare e poi la prendo qua lo zaino o qualche borsetta io la voglio subito e lo vuoi subito se vuoi proprio lo vuoi mettere il mio zaino è il suo penus provo di andare a시�le è dormito con il penus aiaiaiaiaiaiai allora se volete possiamo fare un video in questo video dunque ciao ragazzi possiamo fare un video di questo video tu devi mettere questo